La vedi quest'acqua? Proviene dalle sorgenti del nostro appellino. È pura. E così rimane quando la portiamo a casa tua. Un litro costa mille volte meno dell'acqua minerale. Leggi bene l'etichetta del tuo rubinetto. Ti accorgerai che l'acqua naturale ce l'hai già. Bevila in sicurezza ed usala in tutti i consumi domestici. Assicurati che il tuo impianto sia efficiente e gestito secondo le norme di legge.